più volume, più attenzione, più due taglie in un corso.Avi fiducia nella tua bellezza. Sedurli con la tua profonda scollatura.Ricevi complimenti dagli uomini.Sei è immerso nei complessi. Il seno piatto non eccita nessuno.Le conseguenze della chirurgia plastica ti spaventano.Le smagliature postpartum non scompaiono.Risultato volumetrico in poche settimane.Aumenta la dimensione del busto due o più volte.Sbarazzati delle smagliature per sempre.Incanta con la naturalezza delle forme arrotondate.Opinione professionale del settore della moda.Le capsule Mammax mi hanno aiutato a tornare alla modellistica dopo il parto.Ho dovuto risolvere il problema del seno cadente e delle smagliature, e così senza chirurgia e, soprattutto, senza stupidi esercizi.È incredibile che ci sia un modo così economico e sicuro queste capsule.In appena un paio di settimane, il mio seno è diventato, come prima del parto.I fotografi mi hanno ammirato alcuni anni fa e ora non c'è più fine alle offerte.Come funziona Mammax?La pelle acquisisce compattezza ed elasticità, le smagliature scompaiono.Il contorno del seno diventa più arrotondato e la forma è più densa.Chiaramente visibile ingrandimento del seno 1 a 2 dimensioni.Quattro passi per una figura snella.Comodo.Compila l'applicazione sul sito.L'operatore ti richiamerà per concordare i dettagli.Veloce.Forniamo la consegna più veloce possibile all'indirizzo specificato.Sicuro.Il pagamento della merce viene effettuato solo dopo il ricevimento, nessun rischio.Efficace.Segui le raccomandazioni e goditi la bellezza del tuo seno.